Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nel mio nuovo video, sono il vostro elicóptero. Ma che dievolo? Ciao ciao! Sì, tanto! Ora, attaccate! Coraggio tanto! Che episodio! Oh, che delizia! Seguitemi, ragazzi! Penso che sto per succedere qualcosa! Ok, raga, mi è piaciuto questo... ...sbizzarrimento del gorilla, delle scemmie, del campamento. Rovina la campanella, è questo il titolo di oggi. Ok, andiamo, va! Spacchiamo tutto, spacco tutto, spacco tutto... ...saldi, delle scemmie. Ok, presolatti... Diverti un po'... Prima abbiamo usato Jane, il protagonista... Adesso... Non mi ricordo adesso come si chiama... ... ...due monete... ...che servono... ...oh... ...otante due monete... ...sette complici... ...dovete essere il mio compagno e non attaccarmi, eh! non dovete attaccare ok aprire le monete spaccare tutto facciamo un pezzo di mappa tofacoccio vabbè ma dove sbucano queste cose mamma mia e basta ok e quando la vita calco un po barra della vita ok vabbè vabbè ecco un'altra mappa ne mangio un due ascoltiamo questo ecco operatore ahhh io faccio fatica così raga non sta collaborando eh è pure l'elefante cioè amico mio deve essere da mia parte eh ti puoi girare ragazzi ah no oh dentro la cd vabbè vabbè noi abbiamo un po' di moneta ho il moneta possibile posso salta salto 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 non devi saldare ma saltare diversamente si saldare saldiamo saldiamo il zanzale è lì e boi mannaggia dai aspettiamo di pochissimo dai salta ok ne manca solo uno cominciamo da capo da cazzo abbiamo prendiamo spacchiamo spacchiamo aspettiamo dai cominciamo da capo da l'ultimo pezzo della mappa la sopra c'è tarzan saluta meglio di te pazzesco dai arrivo ad 800 no non so va bene va una bandiera di inglese ragazzi se vi è piaciuto questo episodio lasciate la mi piace, link e descrizioni ai miei social iscrivetevi al mio canale se non lo avete ancora fatto e noi come sempre ci vediamo al prossimo episodio ciao alla prossima iscriviti al canale